buongiorno a tutti ben trovati di nuovo eccoci qua che bellezza proseguire insieme il nostro il nostro cammino carissimi allora ben ritrovati dunque ben lieti di essere insieme proseguiamo è anche questa ulteriore puntata oggi vedrete vi faccio fare una cosa bellina è perché da oggi cominciamo delle puntate che saranno ancora maggiormente legate fra di loro l'ultima volta vi ricordate abbiamo parlato della parola di dio della sacra scrittura dio che si fa conoscere attraverso la sua parola molto bene allora cominciamo subito con una bella preghiera e poi vi vi dico il programmino è che abbiamo che abbiamo da fare insieme nel nome del padre del figlio e dello spirito santo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ecco sempre importante questa preghiera dove due o tre sono riuniti insieme nel mio nome io sono in mezzo a loro dice il signore e lo spirito santo che ci guida ci riempie ogni volta anche a distanza non non ci preoccupiamo di questo è molto importante allora quest'oggi carissimi una puntata un po' particolare perché sarà tutta dedicata un po' a scrivere è con pazienza ma vedrete una cosa molto bella cioè a dire tutto quello che abbiamo più o meno veduto finora ci porta a parlare appunto della fede no è la fede il più grande dono che dio ci fa insieme alla vita è questa questo credere e i punti e le realtà belle della nostra fede che sono l'indirizzo stesso della nostra vita della nostra umanità allora questa nostra fede noi la preghiamo e la professiamo si dice cioè la affermiamo attraverso delle parole che dicono tutti i punti è più importante le realtà più vere più preziose come fosse un grande tesoro è che ci ha affidato appunto della nostra fede e nei secoli ecco questa è la bellezza della tradizione della chiesa quindi il lavoro l'elaborazione la preghiera dei santi padri si dice cioè i padri della chiesa cioè dire i primi cristiani i primi vescovi pastori le comunità dei primi secoli hanno elaborato quello che si chiama il simbolo della fede intendendo con la parola simbolo una realtà molto grande cioè un insieme di parole che dicono in sintesi quella che è la nostra fede per poterla portare sempre con noi certo essa abita nel nostro cuore ma umanamente ha bisogno di essere espressa no articolata attraverso dei punti precisi dio padre il figlio maria la madonna la vergine santissima lo spirito santo la chiesa e tutte le realtà poi della chiesa ebbene questo simbolo della della nostra fede la professione di fede il credo si chiama anche il credo perché questa è la prima parola noi lo preghiamo e lo professiamo insieme come chiesa tutti riuniti tutte le domeniche e durante le solennità è bellissimo quello che normalmente preghiamo a messa si chiama ora qui iniziano dei nomi belli perché antichi è e si riferiscono a delle realtà molto belle ci debbano spaventare i nomi ci mancherebbe si chiama simbolo niceno costantinopolitano pensa un pochino perché il 325 dopo cristo quindi siamo nel quarto secolo questi grandi padri riuniti questi grandi concili dei primi tempi della chiesa si sono messi d'accordo su queste parole bellissime ricche che fanno sì che noi si possa pregare e professare appunto la nostra fede questo è il credo che diciamo a messa tutte le domeniche c'è però una successiva elaborazione anche si va qui un po di storia bisogna farla si va verso il quinto secolo siamo nella zona dell'attuale Francia dalla Gallia è stato elaborato una una sintesi ancora un pochino più breve lo sappiamo il credo della messa della domenica è un pochino lungo è bello si approfondisce a tante a tante sfaccettature belle che noi impariamo semplicemente appunto andando a messa ascoltando il papà la mamma accanto a noi gli amici l'assemblea tutta riunita che che lo prega magari un pochino comincia a seguirlo dal foglietto e poi piano piano mi entra nelle orecchie nel cuore però ve lo confesso il il credo quello proprio niceno che trova abbastanza lungo eccetera io ho sempre bisogno di avere un occhio lì o sul messale sul foglietto per seguirlo anche vero per non confondermi perché insomma sono parole belle ricche preziose c'è però anche un altro simbolo è della nostra pedia che è il cosiddetto credo apostolico è più breve è apostolico in riferimento agli apostoli sicuramente però è un pochino più recente storicamente rispetto a quello di cui parlavamo quello che si professa normalmente la domenica messa ci sono dei momenti nell'anno in cui anche questo credo più un pochino più breve più sintetico lo si si sceglie di pregarlo per cambiare un pochino vedete e infatti durante la quaresima soprattutto andremo a pregarlo così allora eccolo che quest'oggi tutta la puntata è riempita da questo io ve lo faccio vedere e lo leggiamo insieme e voi avete tutto il tempo mettendo pausa se vorrete e fermando un pochino l'immagine o comunque riguardandovi con calma anche questo piccolo filmato di e facciamolo perché è una cosa importante di scriverlo e scriverlo sui vostri quaderni perché è una cosa molto bella allora qui dentro ci sta il tesoro della nostra fede questa forma un pochino più sintetica ci dà la possibilità questa sì che piano piano poi col tempo entra nel cuore nella mente sulle labbra e va davvero a memoria questo sì ve lo dico insomma ve lo dico io in prima persona ce l'ho fatta anch'io impararlo a memoria questo è bello però ecco ripeto lo scriviamo insieme e siamo così sicuri di una cosa grande che la chiesa nella sua tradizione viva ci dona e cioè l'immagine vera di dio vi rammentate alcune puntate fa abbiamo detto dobbiamo stare attenti a quelle immagini false di dio che poi ci fanno ammalare ecco allora l'importanza della chiesa l'importanza della parola di dio dell'annuncio del vangelo il catechismo stesso no per come mi è trasmesso dal magistero cioè se ne parlava un pochino anche la puntata scorsa il magistero cioè i vescovi riuniti insieme al papa i nostri pastori sicuramente ci guidano no ci annunciano secondo verità quello che è il tesoro il deposito si chiama della nostra fede qualche cosa di vivo perché il signore si fa conoscere continua a farsi conoscere a farsi incontrare al vivo per ciascuno di noi e che è tuttavia consegnato e pur sempre presente nelle parole è nel in questo in questo testo che diventa una preghiera sublime davvero bellissima la professione della nostra fede è un tesoro grande allora avete visto abbiamo ci siamo abituati a mettere per iscritto alcune preghiere sono quelle che vengono dal vangelo stesso il padre nostro che ci insegna gesù la ve maria l'annunzio dell'angelo che meraviglia e altre preghiere della tradizione l'angelo la preghiera l'angelo custode il gloria il dare gloria a dio l'ultima volta avevamo scritto questa ecco ora la professione della nostra fede allora vediamo se riesco a farla inquadrare nel modo più bello di tutti aspetta devo andare un po' indietro eccolo qui allora questa è la mia scrittura un po' così però in ogni momento ripeto potete mettere la vostra pausa e così lo scrivete anche voi per oggi solo questo è dire allora la bellezza l'importanza della nostra fede il fatto che questa fede è reale viva è ed è professata secondo parole precise sulle quali siamo sicuri di non sbagliarci e allora eccolo qui ve lo leggo anche sicuramente leggendolo è come è come pregarlo come ritornare sempre una fonte viva è la nostra fede è tutta la nostra vita è il tesoro più prezioso d'accordo e voi con calma poi lo scriverete e poi ci si vede alle prossime puntate saranno tutte dedicate diciamo così a prenderlo in considerazione proprio come punto per punto vedete c'è dio gesù cristo lo spirito santo maria la chiesa la comunione dei santi la remissione dei peccati tante tante cose allora questa è l'inquadratura bellissima allora lo dico io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne la vita eterna ame allora vedete tanto non lo posso mettere giù vi ripeto potete tornare indietro mettere pausa rivederlo tante tante volte c'è tutta la vicenda vedete stessa della della nostra fede della nostra vita l'incarnazione gesù la croce vedete c'è tutto il dono dello spirito santo la chiesa ecco riassunto in parole precise che sono quelle che fanno proprio il cuore stesso della nostra fede allora ripeto è il credo il simbolo cosiddetto apostolico quello che viene un pochino dopo è storicamente rispetto a quello che normalmente siamo abituati a a pregare in chiesa che è più articolato più ricco ancora vi rammentate un po le differenze no che ci sono noi stiamo su questo perché ci aiuta a livello del nostro catechismo del nostro piccolo catechismo ci aiuta a prendere più agevolmente in considerazione ecco i simboli i singoli i singoli i singoli punti va bene d'accordo allora carissimi grazie ancora della vostra attenzione anche per questa puntata io vi abbraccio vi saluto portate un bel abbraccio nelle vostre case ai vostri amici nelle vostre famiglie e facciamo un bel segno della croce e diciamo il gloria è per ringraziare il signore del dono della fede nel nome del padre del figlio e dello spirito santo gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli bene e grazie un saluto a tutti alla prossima puntata